Bravi tutti ragazzi! Uuuuh! Abbiamo avuto le riprese del Tiki Clif, dei Mines Clif! Bravo Damiano! Bravo! Bravo! Un applauso ai Regis di Unazza di Corazio! Ok, vai col motore! Bella Regis! Allora, Massimo Dio, pettina i capelli! Grande Massimino! Amo! Fai attenzione poi che non ti esca la carta igienica, eh! Sì, vai! Un po' di meno! Ci sta! Ok! Facciamo Thomas adesso! Ma sta preparando! No! No! 0! Ottimo, hai una roba? Questi sono postrattori Per uscite ora questo rimano Niente di che Devi seguire i suoi movimenti E lo porti come vuoi te Non montare sta roba qua Quindi quando abbiamo pensato a come fare il video Abbiamo deciso di creare questa sorta di doppio mondo Un mondo all'inizio del video Dove è tutto triste E un mondo invece meravigliosamente felice Che è quello del freak Sostanzialmente fai come cazzo ti pare E sarai sempre felice, baby Aspire Grazie a tutti ragazzi! Abbiamo finito, abbiamo finito le rivelessi dei piccoli Grazie Bravo Damiano Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!